Ciao a tutti ragazzi! Oggi spiegheremo come giocare al gioco dei giochi. Seguitemi attentamente, vi spiegherò tutto passo per passo. Il mazzo delle doti è composto da 30 carte, quelle dal dorso verde, e rappresenta le doti che dovrai giocare per vincere le sfide. Ci sono quattro tipologie di carte dote, che potrai riconoscere dal simbolo colorato posto nella parte alta della carta. Simbolo rosso, dote del coraggio. Simbolo giallo, dote dell'entusiasmo. Simbolo azzurro, dote della tenacia. Simbolo bianco, dote giolli. Le carte dote hanno un punteggio dote espresso dal numero sul simbolo colorato in alto. Inoltre, le carte possono avere sul lato dei mezzi simboli con indicato un numero o un simbolo più, che possono far ottenere un bonus. Il mazzo delle sfide è composto da 10 carte, quelle con il dorso giallo, e rappresenta le sfide che vi lancerete per vincere la partita. Il simbolo in alto sulla carta indica le doti che potete utilizzare per vincere la sfida. Per esempio, simbolo rosso e giallo richiedono delle carte coraggio ed entusiasmo. il numero in basso a sinistra indica il valore che la squadra perdente dovrà raggiungere per ottenere il premio di consolazione. In fondo a destra, invece, si possono trovare uno o più simboli che rappresentano i premi di consolazione che la sfida mette a disposizione. Avete capito? Continuate a seguire i nostri tutorial per scoprire come giocare al gioco dei giochi.